Bella soddisfazione. Decisamente. Un bel campo, sono organizzati bene. Organizzati, Colspan penso che sia contento perché è tutto giallo e nero. L'Orso Riviera è stato eccellente nell'organizzazione, ci hanno messo tutto a disposizione. Però un po' di cose le stiamo cambiando. Sì, assolutamente sì. Diciamo che stiamo andando un po' verso l'esigenza di quello che chiede l'equitazione in questo momento. Quindi andare un po' più sul tecnico, andare un po' più sul sodo e cercare di fare una formazione a 360 gradi. Proviamo a creare un po' dei professionisti. Ci proviamo. Diciamo la parola giusta e ci proviamo. Poi riuscirci non sarà semplicissimo. Il 2021 inizia con un nuovo viaggio. Campus Masterclass offre un programma formativo completo nel settore equestre. Un viaggio di tecnica e passione, arricchito da tre esperienze di crescita. Modulo 1, stage base. Modulo 2, perfezionamento nella scuderia di un cavaliere professionista. Modulo 3, stage in gara. Campus Masterclass, un format innovativo con contenuti d'eccellenza.